Non ci sarà nessuna nuova perizia sulla caduta di Martina Rossi, la studentessa volata giù dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca per sfuggire ad un tentativo di stupro all'alba del 3 agosto 2011. A richiederla, 13 anni dalla morte, erano stati Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, i due trentenni di Castiglion Fibocchi condannati a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo. La richiesta al giudice civile del Tribunale di Arezzo, davanti al quale si svolge la causa per il risarcimento del danno, era quella di riconoscere un grado di responsabilità della studentessa. In altre parole, fu anche colpa sua, secondo la tesi dei legali, se scavalcò la ringhiera nella fuga e cadde nel vuoto, tesi definita berrante dai familiari di Martina Rossi e che adesso è stata rigettata. Voglio dire, sembrano assurde delle volte queste acrobazie che fanno, diciamo così, per togliersi delle responsabilità che oramai mi sembrano definite, certe e chiare. Ecco, ora io capisco che magari arrivare alla fine quando si fanno i conti, magari possono diventare amare, no? E la vita delle persone, ecco, ne può rimanere segnata, ecco, ma tanto come noi, ecco, non ne è rimasto sicuramente segnato nessuno. Albertoni e Vanneschi attualmente si trovano in carcere per scontare la pena in regime di semilibertà. La famiglia di Martina Rossi è chi ha su un milione di euro di risarcimento da destinare alla lotta contro la violenza sulle donne. In nome della giovane è nata anche un'associazione lanciata da Bruno Rossi e Franca Murialdo, intitolata alla studentessa anche una borsa di studio. Di stare dalla parte dei più deboli, di quelli che soffrono, che poi sono quelli che soffrono sempre di più. I civili nelle guerre, le donne nei delitti, i bambini nell'amore, ecco, che dovrebbero ricevere per venire grandi. I vecchi, ecco, che muoiono in una maniera senza medicina delle volte, ecco, questo è lo scopo, diciamo così, dell'associazione, della nostra vita. E di come passiamo le giornate, ecco, ricordando Martina, sempre, sempre. Grazie a tutti.